Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della chiesa metropolitana di Pescara Penne. Oggi è lunedì 17 novembre e la chiesa celebra la memoria di Santa Elisabetta di Ungheria religiosa. Una giornata di studio e confronto sui risultati del progetto denominato Inquinamento Diffuso e l'iniziativa programmata per oggi alle 10 nella sala figlia di Iorio della provincia di Pescara dal servizio gestione rifiuti della regione Abruzzo con l'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente e la provincia di Pescara. Grazie al progetto sono state individuate sui principali acquiferi alluvionali del fondo valle della costa adriatica abruzzese dove la contaminazione è diffusa. Gli acquiferi interessati sono Tronto, Vibrata, Salinello, Tordino, Vomano, Saline, Pescara, Alento, Foro, Sangro, Sinello, Osento e Trigno. Di fronte al rischio che chiudano le mense organizzate all'Università dell'Aquila intervengono gli studenti della lista universitaria Lista Aperta L'Aquila che annunciano un incontro con l'assessore alle politiche sociali della regione Abruzzo, Marinella Sclocco, in programma domani. Gli studenti che interverranno anche al Consiglio regionale il 25 novembre presenteranno la loro proposta di assegnare il servizio mensa ad una ditta ristoratrice nominata appositamente sostenendo che i buoni pasto sarebbero poco funzionali e facendo notare che, in particolare a Roio, dove c'è la facoltà di ingegneria, mancano altri punti di ristoro. Quali sono le motivazioni, le finalità e i criteri adottati da raggiunta da Alfonso nell'istituire lo schema di protocollo d'intesa tra la regione Abruzzo e la sezione agroalimentare unificata di Confindustria Chieti-Pescara per costituire uno sportello qualità Abruzzo che supporti le aziende agroalimentari del territorio ad ottenere certificazioni di livello superiore, lo chiedono in un'interpellanza il presidente della Commissione regionale di vigilanza Febbo ed il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Sospiri. Febbo parla di estromissione dell'intero mondo agricolo fatto di imprenditori, sindacati ed altre realtà. Nel summit di tecnici ASL e regionali tenutosi sabato mattina alla direzione generale della ASL di Chieti con il presidente della regione D'Alfonso ed il manager Francesco Zavattaro si è parlato dei rischi che corrono i corpi C ed F dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti per i pilastri costruiti con cemento impoverito. Per accelerare i tempi di una soluzione, mettere in sicurezza malati ed operatori e dare tranquillità anche ai vertici ASL e regionali, si è deciso che la soluzione del problema è la costruzione di un nuovo edificio per consentire lo svuotamento dei corpi di fabbrica a rischio ed il proseguimento dell'attività assistenziale. Ieri per problemi ad un monomotore privato il cui ruotino anteriore si è forato in atterraggio a Pescara, la pista dell'aeroporto è stata chiusa per un'ora e il volo Ryanair da Barcellona è stato dirottato su Ancona. I piloti dopo 20 minuti in volo d'accordo con la torre di controllo gestita da ENAV, l'ente nazionale di aviazione civile, hanno deciso di fare scalo nell'aeroporto marchigiano. L'aereo privato è stato messo in sicurezza dagli addetti della Saga, la società che gestisce l'aeroporto di Pescara. Il volo Ryanair è ripartito e arrivato in Abruzzo verso le 16 con due ore di ritardo. A causa di lavori di pulitura del collettore fognario ad opera dell'ACA, a Pescara, via Valle Roveto, dal tratto che va dal Ponte della Libertà all'innesto della Rotonda Pierangeli, resterà chiusa per 5 giorni, dalle 9.30 alle 12.30. È un intervento urgente perché la condotta è piena di materiale brecioso da compiere con l'autospurgo che occuperà l'intera sede stradale, da qui l'esigenza di chiudere la strada nelle ore che possono consentire lo svolgimento delle operazioni senza arrecare particolare disturbo al traffico. Elemosina sì, elemosina no, ma come ci si deve comportare di fronte alla mano tesa al semaforo oppure davanti al supermercato e quanto si chiede in un articolo il quotidiano Il Centro. Don Marco Pagnello, direttore della Caritas di Ocesana di Pescara Penne, risponde Io ai semafori non do soldi, la carità va fatta pensando al bene ultimo della persona non per togliersi il fastidio di allontanare con una moneta la persona insistente e spiega Non voglio dire che l'elemosina non si deve fare, anzi il contrario. L'elemosina va fatta ma stando attenti affinché dall'altra parte chi la chiede non si abitui al suo stato di povertà trasformi l'accattonaggio in un lavoro. Un anno dopo l'alluvione del novembre-dicembre 2013 poco o nulla è cambiato sul Saline lo dice la lista civica all'altra Montesilvano sulla situazione del fiume Saline. La lista civica fa notare l'argine scalzato per 25 metri tra il Palacongressi e la Multisala The Space, lo scarico del depuratore consortile che sarebbe un fiume nero che confluisce nelle saline. Il lavoro in corso su 13 dei 15 ponti sul fiume, la distesa di rifiuti vicino all'ex discarica di Villa Carmine, presenti al sopralluogo di ieri l'assessore comunale Cozzi ed il commissario del Mise Orlando. L'altra Montesilvano chiede subito la conferenza dei servizi. Sono più di 30 gli esperti coinvolti nel progetto Federmanager Masterplan Sistemi di apprendimento delle competenze manageriali che verrà presentato il 18 novembre alle 17 nei locali del Learning Center della Onda Industriale SPA in Via Genova numero 9 barra 11 ad Atessa in provincia di Chieti. Il presidente di Federmanager Abruzzo Molise, Florio Corneli, presenta così l'iniziativa. Il termine crisi ha prodotto, dice, una mentalità seduta in una pericolosa posizione di stand-by che rischia di istituzionalizzarsi. Il cambiamento in atto, aggiunge, dura da troppo tempo, circa sette anni. Occorre pensare ad un fare o alla possibilità di trasmettere l'operatività dell'esperienza di chi sul campo ha dimostrato la realizzazione degli obiettivi. E oggi, alle ore 17.30, presso l'auditorium Petruzzi in Via delle Caserme a Pescara, ci sarà l'apertura dell'anno accademico dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose Tognolo di Pescara. Appunto, dunque appuntamento alle 17.30 all'auditorium Petruzzi di Pescara. Oggi la direzione, la redazione e la regia e i collaboratori tutti di Radio Speranza augurano buon compleanno a padre Franco Rapacchiale Don Giovanni Campoverde e Don Rocco Mincone. Il meteo dice che oggi su Pescara e provincia si prevede cielo parzialmente nuvoloso con temperature da 10 a 18 gradi e venti moderati. Il mare è previsto da poco mosso a mosso. Era l'ultima notizia per quest'edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio alla microfono, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della Chiesa metropolitana di Pescara Penne, grazie e a risentirci.